Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma Termini è in partenza dal binario ferma a Elese Cerreto, Caserta, Marcianise, Villa Literno, Minturno, Formia, Latina. Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma, Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma, Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma, Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma, Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma, Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma, Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma, Il treno regionale 24-18 di Trenitalia delle ore 5 e 15 per Roma, Il treno regionale 4 e 16 per Roma, Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.